Ciao a tutti ragazzi, qui è Matti, scusate a parla e benvenuti in questo nuovo video. Oggi non faccio nessun video particolare o cose varie, come vedete sono in pigiama, un pigiama molto molto yeah e questo lo so che mi dispiace anche a me di non aver fatto un video con tutta la giornata che ho fatto e tutte queste cose qua, no, non ho voluto perché volevo un po' staccarmi dai video e diremo faccio un piccolo video di un piccolo vlog stasera. Questo vlog riguarda Capodanno e volevo fare gli auguroni di un buonissimo 2017, spero che sia migliore del 2016 dell'anno passato e riguardante YouTube, allora, siamo a 28 iscritti, 2 iscritti, chiedo 2 iscritti e almeno riesco ad arrivare a 30 e sono già felice così, poi per il resto vedrò cosa riesco a fare. Adesso sto preparando, ah, riguardante a IEEFATTO sto facendo delle, sto pensando dei nuovi episodi e spacchettamenti non ne farò più tanti, se li faccio li farò raramente. E cosa volevo dire, infine, quello che ho detto, non mi ricordo, ah, ecco, sto preparando un video dove racconto la mia esperienza da ballerino e poi da lì basta guardarlo se da posso, vedo come si fa. Comunque vi invito a iscrivervi appunto se non l'avete ancora fatto per due maledetissimi iscritti e una volta iscritti schiacciate la campanellina, andate su una latellina, poi vi comparirà una schermata. Voi dovete mettere una, cliccare, affermare una frase che dovrebbe dire avvisami per ogni notifica che arriva da questo canale così vi spunteranno tutti i video che io faccio giorno per giorno per non perdervene oggi non sto parlando IEEFATTO per non perdervene neanche uno. Boh, direi che questo video può anche terminare. Mi mando un bacione, un abbraccione e un augurone di un buonissimo 2017. Cielo.